Priorità della Commissione Europea Rete-Belk e ruolo degli enti locali e dei cittadini nella governance europea. Di questo si è parlato in un incontro presso la sede della Regione Marche. Sì, è fondamentale un rapporto diretto, leale, tra le istituzioni europee e le istituzioni territoriali. Questo si può fare solo se si riesce a rendere questo rapporto non solo continuativo, ma anche strutturale rispetto agli obiettivi che sono riconosciuti e necessari, sia dalle associazioni di territorio, le attività produttive, le nostre piccole e medie imprese, le nostre micro comunità che fanno parte a pieno titolo dell'Europa ma che sono anni luce distanti a volte dal linguaggio che l'Europa e dagli obiettivi che l'Europa ci dà. Quindi è necessario confrontarci e allineandoci tutti sulla stessa direttrice perché credo che lo sviluppo e gli obiettivi che il tempo che viviamo ci impongono credo che si possono raggiungere solo se c'è una sinergia totale e soprattutto la disponibilità di tutti di comprendere quelle che sono le necessità che il territorio e le imprese e l'economia e i giovani e soprattutto comunità come quella nostra ritengono prioritarie e necessarie. Se non c'è questo allineamento il rischio è che quella diffidenza che ha contraddistinto a volte i vari livelli istituzionali possa diventare un solco invalicabile. Noi questo non lo vogliamo, per questo insieme alla Svem stiamo lavorando, stiamo organizzando degli incontri proprio a Bruxelles per avvicinare quelle che sono le esigenze del nostro territorio al livello di governo europeo per il tramite certamente del governo nazionale che si fa interprete delle nostre priorità e soprattutto anche dei nostri obiettivi. Ricordiamo che ancora per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e residenza non abbiamo cifre certe ma parliamo di circa 4 miliardi e un 10% o circa 400 milioni verranno gestiti direttamente dalla regione, gli altri 3 miliardi e 6 verano gestiti dai ministeri agli enti locali. Quindi risorse importanti per rilanciare le marche anche secondo gli obiettivi della Commissione europea la digitalizzazione, la competitività? Sicuramente stiamo chiudendo nei prossimi due anni quest'anno la rendicontazione della prima programmazione 14-20, poi stiamo entrando nel vivo se abbiamo già usciti con dei bandi nella programmazione 27 che cuba 1 miliardo e 36 milioni e poi ci sono i fondi che ho appena detto del piano nazionale ripresa e residenza.